15 mostre di fotografie italiane e internazionali, ma non solo, anche concerti, manifestazioni, workshop e incontri. Questo è il SeaFest 2011, il festival di fotografia di Savignano sul Rubicone fino all'11 settembre. Sì, da quel SeaFest è iniziato, tantissime le mostre, gli eventi collaterali, sabato sera anche una notte bianca per la fotografia? Certo, i giovani si interessano di fotografia, però hanno bisogno anche di avvicinare le arti, la cultura con situazioni piacevoli e divertenti. La notte bianca serve proprio a questo, a catalizzare i giovani in un ambito culturale legato alla fotografia. Ecco, molta animazione per questo SeaFest, quali saranno le novità? Le novità saranno appunto una mostra particolare legata alle origini di questa manifestazione che adesso giunge al ventennale e poi una mostra legata al 150esimo dell'Unità d'Italia qui a Savignano, proprio creata dai fotografi del Circolo Cultura e Immagine che sono i sostenitori e i promotori di questo grandissimo evento.